Si è svolto a Siderno il primo convegno carismatico dell'opera della nuova evangelizzazione, associazione di promozione sociale e di fedeli della diocesi di Locri Cerace, che porta avanti un impegno di evangelizzazione del popolo cristiano e di solidarietà a favore delle fasce sociali più deboli. L'idea di realizzare un incontro è nata dalla necessità di voler coinvolgere più persone possibili per vivere un momento di forte esperienza spirituale mediante un annuncio carismatico e carismatico della parola di Dio, fatto di momenti di lode, adorazione e di catechesi sull'opera dello Spirito Santo nella vita della Chiesa e del cristianesimo. Il tema del convegno infatti è stato, e tutti furono pieni di Spirito Santo, un tema che è stato avvalorato dalle testimonianze e dalla preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito. Tanti giovani presenti e le famiglie che hanno potuto toccare con mano la presenza viva dello Spirito Santo che oggi, come all'origine, rinnova i prodigi di una nuova Pentecoste. Momenti vibranti di grazia e di misericordia, momenti nei quali la gioia e l'esultanza dello Spirito ha rinnovato i cuori, guarendoli dalle vecchie ferite e convertendoli all'amore di Dio. I relatori che si sono alternati li sono lasciati guidare dalla sapienza dello Spirito e hanno saputo comunicare parole di speranza e di incoraggiamento come soltanto lo Spirito sa fare. Parliamo del dottor Ironi Spuldaro che ha guidato la preghiera di guarigione fisica e poi padre Roberto Basilico, la preghiera di guarigione interiore, don Pasqualino di Dio, la coroncina alla Divina Misericordia e l'adorazione coristica e poi don Giuseppe Giovinazzo, oltre all'omenia tenuta durante la messa di sabato, ha condiviso con i presenti la sua esperienza personale dell'incontro con lo Spirito Santo che lo ha guarito risuscitandolo a vita nuova. La celebrazione eucaristica domenicale presiuta dal Vescovo di Locri, Monsignor Francesco Riva e l'adorazione coristica con la preghiera di effusione dello Spirito Santo presieduta a don Giuseppe Giovinazzo hanno concluso i due giorni intensi di meditazione, di adorazione e lode. Toccante è stata la testimonianza del giovane Matteo Nesci che ha visto ricongiungersi la sua famiglia dopo anni di separazione dei genitori e la guarigione prodigiosa della leucemia del padre. Tutto è stato organizzato nei minimi particolari grazie all'impegno convinto e generoso dei membri attivi dell'associazione che nel donarsi hanno sperimentato la gioia di ricevere molto di più di quanto hanno dato.